A oltre 30 anni dalle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio, anche quest'anno la Polizia di Stato si è fatta promotrice di un'iniziativa capace di veicolare messaggi di speranza e di legalità per coltivare la memoria di coloro che hanno sacrificato se stessi nella lotta alla mafia. Con questo spirito ieri la dirigente del commissariato di pubblica e sicurezza di Acireale, primo dirigente Tito Cicero, ha consegnato l'olio del giardino della memoria di Capaci al vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, presidente anche della Cesi Conferenza Episcopale Siciliana, affinché venga consacrato nella Santa Messa Crismale che è stato fatto, che si è tenuta per l'appunto ieri ed essere utilizzato nel corso dell'anno liturgico. L'olio è prodotto dagli olivi coltivati dell'associazione Quarto Savona 15, la Ollus fondata da Tina Montinaro che cure insieme ad altre realtà locali il giardino della memoria, inaugurato il 23 maggio del 2017, spirituale di grande importanza.